Allora ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video reaction come ogni mese eccoci qui con i video reaction sui video dell'amore della mia vita alan baker Come sempre ragazzi vi ricordo che in descrizione in fondo trovate sia il link del video originale e anche del patreon di alan Mi raccomando se potete supportarlo tutti quanti perché i video che va a creare sono veramente bellissimi Comunque detto questo vi dobbiamo lasciare un pollicione in su cerchiamo di superare i 3237 like per questo video reaction Iscrivetevi al canale e cliccando nella campanella nei dettorsi dove possiamo iniziare subito Ok raga eccoci qui il video è uscito da pochissimo e appunto il 19 settembre il video penso che lo farò usci il giorno dopo quindi il 20 Raga il titolo è questo qui the end quindi si aspetta qualcosa di veramente fighissimo Soprattutto c'è una particolarità dura 12 minuti C'è scritto 12 minuti quindi a meno che non c'è un qualcosa nel mezzo o alla fine che dura tanto che non c'entra l'animazione in per sé Il video dura ben 12 minuti circa Iniziamo subito vai di schermo intero e da come vedo ho aperto il video ragazzi ed è già qui così Quindi parte subito senza nessuna intro né nient'altro e quindi niente ragazzi mettiamo subito play Ok Allora io mi ricordo che eravamo rimasti con il fatto del nuovo villaggio E infatti questi qui sono gli altri che adesso scopriranno probabilmente la cartella storage dove dentro c'è il portale del nether Eccolo qui E quindi penso che anche loro verranno nel nether E se mi ricordo ancora bene nello scorso episodio Avvano trovato anche il fatto del portale del nether Nella stanza segreta Dovebbe essere appunto questa qui E il video tutto è finito Che si buttano all'interno Ed eccoci qua raga Nell'end Ok No però c'è il drago Ma il drago chissà come l'avrà animato Ok Siamo comunque nel land Ci sono loro che hanno pure la coroncina con il personagino viola E devono battere l'ender dragon Benissimo Tutti con la spagna in diamante Perfetto Dai 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 Devevo fare attenzione agli endermen naturalmente Ecco appunto dicono tutti di coprirsi gli occhi Per Non farsi sgamare dagli endermen Perfetto Oddio raga Se combattono il drago Mi aspetto qualcosa di veramente epico Ok Stanno controllando tutto quanto Ah giusto Naturalmente Con la spagna non posso fare Perché sono in volo E quindi Si va di arco Ok Eh Ma recupera la vita Appunto Ok Fino a qua ragazzi Sono tutte le cose della vanilla Che noi sappiamo E che i personaggi Di penso che stanno scoprendo oggi Hmm Mi sa adesso Avranno capito Canna da pesca? Se fanno qualcosa sulla canna da pesca No vabbè Ah Si magari si potesse fare così su minecraft Raga Ecco a rallenty Si No No vabbè raga No Oddio Ma che cacchio stanno facendo? No e dove sto portando ora? Eh Ciao Ah non trovano più ore Così ne dovrebbero essere Spawnare un altro Non so se vi ricordate Quei glitch che ho fatto Su Su minecraft Che cacchio sta fa? Boh Ok Non funziona così Non funziona così Sulla vanilla Ma va bene E che succede ora? Perché il viola E l'uovo? Ah ok Qua ci sono gli altri Perfetto Mi dico Stiamo cercando Loro due Ok Hanno capito Chi sono E mi sento A questo punto Li porteranno Dentro il portale Ah ecco Eh sì sì infatti Diciamo c'è questo flashback Per far capire Il discorso Diciamo Ok Mamma mia Vabbè insomma Li porteranno anche Quindi loro Troveranno L'uovo Eh ma dove Stanno portando Pian piano C'è ancora C'è la spadina Infilzata Aia Eccola End city Raga No Eh Il verde Ciao E mo E ora Il drago Dove Tornare Di nuovo Lì Eh Ciao E mo Che fanno Ah ok Va bene Ok Ok Questo qui va benissimo Ci sta Ci sta Mi aspettavo cosa di più Vanilloso Ma ci sta Ci sta lo stesso Anzi è fighissimo Come cosa Lo stanno seguendo Oh no Cos'è questo No raga 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 No Mi fa male il cuore Cos'è questo spazzettino Qua sotto No Non so se è voluto o meno Ma ok Va bene Ah ok Questo qui ci fa capire Che sta Ah ok Eh eh Attenzione Attenzione C'è uno shulker Qui C'è uno Si è fregato L'elitra Uh Che figata Ok Eh Eccola Arriva lo shulker Raga Uh E ora se lo becchia Che succede Aia Mi sembra Un piccolo Problemino Ok Stiamo tornando di nuovo Al centro Del land Perfetto Eh Ora Beccano di nuovo Il drago E gli daranno vita Appunto Aia E mo' che fanno Ecco Ha toccato il drago Alla cosa Quindi fa in retromarcia Va bene Ok Mamma mia Che cosa Eh Il drago Mi care È stupido Secondo me Ora fa il supereroe Di turno Lui In qualche modo Non lo so Ho questa impressione A meno che Non si frega L'uovo E se ne va via È andato Ai 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 Questa qui è una cosa brutta E mo' Uh Andiamo Effetto rallenti Guardate che lo shulkybox Tipo Gli salva la vita Uno E l'altro Uh Ah così Eh Guardate che fa In 8 secondi Ah Che c'è lui Che potrebbe salvarli 7 Si stanno abbracciando La serie di uto Eh Ho l'uovo Ho l'oro Dai Salva l'oro Salva l'oro Su Con L'uovo Adesso si guardano Tipo Ecco La serie Fanculo le corone E il suo abbracci Di per la fine Ciao E ora Sto procedendo Tantissimo No What? Come? Ok No Raga Vabbè Ma che è? No dai E' geniale E' geniale Ragazzi Questa cosa E' geniale No Vabbè Hanno fatto una catena Di villager No E' geniale Eh si Ma ora il viola Gli ha fatto un pochettino Quello cattivo Eh Se n'è andato No Non ci credo Mi ha fatto tantissimo Ricredere sul personaggino Viola No Vendetta Vendetta Scassatolo di botte Di legnate Tutti che lo abbracciano Chiamai il drago? Eh Non trova più Cosa? Che mi stai dicendo? No Si trova L'ended drago Nel mondo Ora Ah 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 Mi so Cacchi suoi Ciao Bye bye Eh Eh Ha fatto il cattivone Raga Adesso Basta Eh Mi spacca tutto Ah Sta cercando Dall'uovo Aia Per me che fa? Cioè Guarda Ancora ancora Se gli da L'uomo Può risolvere la situazione Se invece Se lo vuole rubare E tenerselo lui Ah no Ok no Io lo dà Io lo dà Io lo dà Ok Lo sta portando lì Ecco Ora Come se lo prendi il drago Con le zampe davanti Tipo Ti vuoi fare così? No raga Non ci credo No dai ma siamo seri No Il baby in the dragon Seriously? Ah Raga E questo errore qui? No Ma non se ne è accorto Cioè È rimasto Trampetto Si è fatto a posto meno Cioè raga È rimasto Mezzo il drago Di fuori Non se ne è accorto Alan Ah no Aspetta Però anche Rie presente No Se la portano via Non lo ammazzano I peroni No raga E adesso Cioè È un errore A tutti gli effetti Comunque Si sono presi il viola L'hanno impingionato probabilmente Adesso loro torneranno a casa Presumo Ma come tutti voi sapete Il video di Alan Su questa animazione Finisce sempre Come I film degli Avengers Insomma Quindi Ci sarà il colpo finale Ci sarà il colpo di scena Alla fine Sicuro Ok Stanno costruendo comunque La strada per salire sopra E lui? Ah È questo? No raga Oh mio dio Dan Eh Perché ma quanto sei bello Oh bellissimo Fatti abbracciare Ma quanto sei bello Guarda Che faccino liscio Che c'ha pure Guardatelo Bambolotto Proprio Raga Qui sta spiegando Che sta facendo Praticamente Un'animazione Al mese Quando prima ne facevo Tipo uno all'anno E comunque ragazzi Che dire Un episodio molto bello Molto d'azione Soprattutto la parte Con l'Ender Dragon Mi è piaciuto un casino Spero che sia piaciuto anche a voi Vi ricordo che Sotto in descrizione In fondo C'è il link del video ufficiale In modo che potete vederlo Senza la mia reazione E c'è anche il link del Patreon Del bellissimo Alan Mi raccomando Se potete supportatelo Tramite appunto Patreon Comunque ragazzi Detto questo Direi che questo video reaction Può anche Finire qui Quindi ragazzi Questo video frisci qui Spero vi sia piaciuto Un pollice in su Un commento qua sotto Ricordatevi che vi passate In descrizione Perché lì sono tutti i miei social Come Instagram E Telegram Mi raccomando Scrivetevi su entrambi E se ancora Non vi siete iscritti al canale Vi invito ad iscrivervi Volendo per iscrivervi al canale Basta che cliccate Nell'altra che sta qui C'è nello schermo E se già l'avete fatto Vole cliccare a sinistra e a destra Per vedere un altro mio video No ragazzi Detto questo Vi saluto E ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti BIN